La fotosintesi presenta un aspetto, un dettaglio importante che va considerato ed è il seguente. La molecola di rubisco può svolgere la sua funzione come carbossilasi ma anche come ossigenasi, cioè può legare sia la CO2 ma anche l'ossigeno al riburosio e queste due funzioni enzimatiche sono in concorrenza tra di loro. L'aspetto positivo è che l'affinità della rubisco per la CO2 è molto maggiore rispetto a quella che ha per l'ossigeno e questo consente a questo enzima di svolgere la sua funzione anche in condizioni normali, cioè quando nell'aria la CO2 è scarsa. Sappiamo che è molto inferiore la quantità di CO2 rispetto a quello dell'ossigeno nell'aria, però al tempo stesso bisogna considerare che all'interno delle foglie, delle piante, man mano che la fotosintesi procede la CO2 tende a diminuire perché viene utilizzata per la fotosintesi e l'ossigeno prodotto dalla fotosintesi stessa invece tende ad aumentare e in questa maniera questo squilibrio favorisce la funzione, l'attività enzimatica di ossigenasi. Al tempo stesso questa funzione di ossigenasi viene diciamo avvantaggiata dall'alta temperatura, per cui il risultato di tutto ciò è che quando nelle giornate calde e affose dell'estate le piante chiudono gli stomi per evitare la perdita, per ridurre la perdita di acqua sotto forma di vapore, all'interno delle foglie si crea una condizione tale che favorisce l'attività ossigenasica della rubisco. Questo fenomeno prende il nome di fotorespirazione ed è molto meno efficace che la fotosintesi in quanto a fissazione del diossido di carbonio. Per questa ragione sappiamo tutti che i coltivatori tendono a non far andare mai in stress idrico le proprie piante. Però la natura ha dotato alcune piante di una soluzione alternativa e questa soluzione si è evoluta molto più recentemente rispetto a quella diciamo classica della fotosintesi. La fotosintesi pare che si sia sviluppata fra 3,5 e 3 miliardi di anni fa, mentre queste piante di cui sto per parlare si sono evolute pare fra i 12 e 13 milioni di anni fa. Sto parlando delle cosiddette piante C4. Le piante che normalmente compiono la fotosintesi come siamo abituati a pensare vengono chiamate C3 perché il prodotto iniziale della fotosintesi è una molecola a triatomi di carbonio, cioè il fosfoglicerato. Le piante cosiddette C4 invece fanno una cosa differente perché contengono al proprio interno un altro enzima che è questo, si chiama fosfoenolpiruvato carbossilasi. Questo enzima riesce a carbossilare il piruvato e dare origine all'ossal acetato. Per questo motivo la prima molecola che si ottiene è a 4 atomi di carbonio e queste piante vengono chiamate C4. Cosa accade in queste piante? Alcune cellule, le cellule del mesofillo sono ricche di questo enzima che, badate bene, ha solo funzione carbossilasica e non ossigenasica, quindi non è in competizione e riesce a fissare la CO2 al piruvato anche quando la CO2 è a bassa concentrazione. Riesce così a produrre questo ossal acetato che viene poi passato alle cosiddette cellule della guaina del fascio, che sono ricche di cloroplasti e possono utilizzare la CO2 ottenuta, ricevuta dall'ossal acetato per la fotosintesi clorofiliana, rigenerando il piruvato che riprende il ciclo. Per cui in qualche maniera è come se questo sistema di piruvato e ossal acetato facesse un po' da trasporto, l'ossal acetato è proprio un vettore di CO2 fra un tipo di cellula ed un'altra. E queste cellule, queste piante, scusate, le cosiddette C4, possono quindi continuare a fotosintetizzare anche in condizioni di estrema calura. Oltre che queste, ci sono anche le cosiddette piante CAM, le quali fanno esattamente la stessa cosa, ma queste due funzioni non le svolgono in due punti diversi della foglia, bensì in due momenti diversi della giornata. Vale a dire, durante le ore notturne, quando la temperatura è più bassa e quindi gli stomi si possono aprire facilmente, senza problemi di disidratazione, avviene la prima parte del ciclo. Si accumula CO2 sotto forma appunto di ossal acetato. Durante le ore diurne, quando invece il caldo costringe gli stomi alla chiusura, utilizzano questo ossal acetato, questa riserva di ossal acetato, per far andare avanti la fotosintesi e sfruttare la luce solare. Queste piante sono dette piante CAM, proprio perché la sigla è appunto quella del metabolismo acido, delle crassulacee, la famiglia delle piante in cui questo meccanismo è stato scoperto per la prima volta. Le piante di cui stiamo parlando sono per esempio le piante grasse e in questo schema che vedete in fondo, ecco, c'è una sorta di riassunto delle caratteristiche che differenziano le piante C3 dalle piante C4 e dalle piante CAM.